Cari amici e cari concittadini, anche questa mattina vorrei essere tra i primi ad augurarvi una buona giornata. Voglio dire anche a voi che sto in ottima salute, ma così, perché poi soprattutto li ho contattati, sono in ottima forma e in salute quindi tutti i dipendenti del Comune che con responsabilità hanno accettato questi giorni di isolamento insieme a me e al mio vice sindaco nelle proprie case. Voglio ricordare che la nostra quarantena, che poi per me finirà poi sabato prossimo, quindi fra tre giorni nemmeno, non è dovuta a una forma sintomatica di coronavirus, deve essere molto chiaro questo, cioè noi non abbiamo, nessuno di noi ha una sintomatologia di questo tipo, ma è solo una forma precauzionale al fine di scongiurare, anche se remota, la possibilità di un allargamento del contagio. D'altra parte era necessario fare questo, oltre che imposto dalla legge, anche eticamente parlando, bisogna essere responsabili, responsabili ripeto.